Una esperienza unica che ha fatto registrare un sold out all'alba di oggi, concerto in omaggio a Ennio Morricone del maestro Francesco Greco e la sua ensemble. Mentre il sole sorgeva, le note del violino e il canto del mare hanno deliziato gli ospiti del Lido Persefone dell'Aeronautica Militare a Marina di Pulsano. Un evento organizzato dal Lions Club Taranto Città dei Due Mari per il service zaino sospeso servirà infatti a finanziare la donazione di materiale didattico a famiglie in difficoltà in vista del nuovo anno scolastico. Grazie a tutti!